Allora, gli abbinamenti di questa sera sono per il dubbio di Aianico, che è una sfumante. Abbiamo scelto Opato, un brano emblematico della Bossa Nova di Giorgio Gilberto. Intrigante, divertente e coinvolgente. Invece per il Putizzi greco di Tufo di Occiji abbiamo scelto September Song, quella che Woody Allen ha definito come forse la migliore canzone mai scritta. Per il Taurasi. Piano di Montevergine e di Occiji, abbiamo associato Crimey River, una ballad molto molto intensa, che ben si sposa le caratteristiche così interessanti e varie di questo video. Come ultimo brano, per il passito privilegio piano di Avellino, abbiamo scelto Over the Rainbow. Oltre ad essere un vincitore di premio Oscar ed entrato nella storia della musica, è in realtà un brano di una dolcezza che non poteva non essere associata a un vino di una dolcezza particolare. Per il Taurasi. 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 Per il Taurasi.